buongiorno a tutti bentornati nel mio canale come va ragazzi siete sopravvissuti al pranzo di natale io credo di aver mangiato veramente in un giorno tutto quello che di solito mangio in una settimana quindi avevo il cibo praticamente sopra gli occhi perché veramente natale santo stefano la vigilia di natale tutti momenti bellissimi perché io sono stata in famiglia però si mangia troppo secondo me io veramente non è possibile mangiare così tanto in tre giorni comunque a parte questo ci sono stati anche tantissimi regali di natale che ho ricevuto e questo video è dedicato appunto ai miei regali di natale quindi voglio farvi vedere tutto quello che mi hanno regalato per natale parto subito con un autoregalo vi faccio vedere una cosa che mi sono autoregalata per natale l'ho comprata qualche settimana prima in realtà di natale però era un regalo un autoregalo di natale che è la maglia che indosso adesso la maglia provo a farvela vedere in piedi in modo che la vediate meglio è una maglia nera abbastanza aderente e anche abbastanza corta è semplice perché è semplicemente così nera con questo colletto qua sull'argento ma quello che mi piaceva tantissimo sono le maniche perché le maniche mi avvicino così le vedete meglio sono larghe in fondo quindi ha questo effetto manica sono fatte così questo effetto manica larga svasata ed è secondo me la cosa più bella di questa maglia perché poi in realtà la maglia semplice nera non ha niente di che però con queste maniche veramente secondo me faceva faceva come dire il suo effetto insomma mi è piaciuta tantissimo questa cosa delle maniche fatte in questo modo spero che siate riusciti a vederla un pochino meglio insomma mi sono messa in piedi per farvela vedere meglio comunque una maglia che mi piaceva tantissimo soprattutto le maniche come vi dicevo e ho deciso appunto di autoregalarmela il primo regalo che vi faccio vedere è anche il primo che ho ricevuto è un mio amico che mi ha fatto questo regalo è una persona che abita lontano da me molto lontano da me perché non è della liguria proprio nella parte opposta praticamente dell'italia e ci siamo visti prima di natale lui mi ha portato questo regalo che è veramente bellissimo in qualche video sicuramente l'avete già vista perché l'ho già indossata è una collana con un ciondolo di questo genere è veramente bellissima perché fa una luce incredibile veramente un bellissimo regalo che mi ha fatto spero che la vediate bene fa veramente una grandissima luce è proprio bellissima rispecchia poi tantissimo i miei gusti quindi insomma è stato un regalo super gradito questa era la confezione con il sacchettino insomma veramente un bel regalo adesso vi faccio vedere tutti gli altri regali in un ordine di comodità quindi non è un ordine di preferenza assolutamente è semplicemente un ordine pratico perché io ho messo le cose qua vicino a me quindi a seconda di quello che mi viene meglio tirare su vi faccio vedere il regalo però è un ordine di comodità e non di preferenza questo lo dico perché insomma voglio che sia chiaro anche per chi guarda il video perché mi sono piaciuti veramente tutti cioè tutti i regali che ho ricevuto quest'anno sono veramente bellissimi sono super soddisfatta quindi vi faccio vedere il regalo che mi ha fatto il mio compagno che si presenta in questa scatolina che secondo me già la scatolina è veramente bellissima è un orologio fossil ed è bellissimo perché rispecchia tantissimo i miei gusti ha tutti i brillantini intorno al quadrante dell'orologio e poi li ha anche sul cinghino spero che riusciate a vederlo abbastanza bene comunque è un orologio bellissimo perché ha un colore che visto così sembra semplicemente dorato invece in realtà ha delle sfumature dorate ambrate bronzo rosa cioè ha veramente delle sfumature di colore di luce fantastiche che si vedono molto di più alla luce naturale però è veramente veramente bello cioè ha delle sfumature di luce meravigliose e ha appunto tutti questi brillantini a me piacciono tantissimo i brillantini quindi ovviamente il mio compagno che mi conosce bene sapeva che avrei gradito e apprezzato un orologio di questo tipo quindi è bellissimo non vi ho detto che tutti i regali che io ho ricevuto sono state delle sorprese a parte quello che mi hanno fatto i miei genitori che mi sono scelta io perché era una cosa di cui avevo bisogno disperatamente quindi gli ho chiesto se mi regalavano questa cosa però in realtà tutti gli altri regali io non sapevo che li avrei ricevuti quindi sono stati tutti inaspettati soprattutto devo dire quello del mio compagno io non mi aspettavo assolutamente un orologio e quindi è stata una super sorpresa quello dei miei genitori che vi dicevo invece mi sono scelta io è l'hard disk esterno ho scelto questa marca maxtor perché mi sembra che sia comunque una buona marca io avevo un disperato bisogno di un hard disk esterno molto molto grande come memoria questo è 2 tera perché comunque ho bisogno di salvare delle cose su un hard disk esterno perché tutte sul computer comunque non è non è una cosa sicura io ho vabbè poi la possibilità di fare un backup anche con google drive però è una cosa che comunque sto facendo piano piano adesso avevo proprio bisogno di uno spazio dove poter mettere le cose in attesa di fare questo tipo di backup quindi insomma questo me lo sono scelto loro me lo hanno regalato però poi mi hanno fatto anche due o tre sorpresine così quindi anche da parte loro ho ricevuto qualcosa di inaspettato poi vi faccio vedere quello che mi ha fatto mio cugino mio cugino mi ha regalato questa crema spalmabile alle mandorle e la cosa bella è che questa crema l'ha fatta lui quindi è stata fatta da lui in modo artigianale lui è molto bravo a fare queste cose molto bravo a cucinare a fare i dolci insomma in generale cucina molto bene e ha fatto questo tipo di crema spalmabile alle mandorle e me l'ha regalata è tra l'altro buonissima perché me l'aveva già regalata qualche anno fa ed è veramente una cosa una gioia veramente per il palato quindi insomma è stato un regalo super gradito e super gradito ancora di più perché l'ha fatta lui quindi non l'ha comprata in un negozio ma ha dedicato del tempo per farmi questa cosa quindi sicuramente un regalo super gradito poi vi faccio vedere un regalo che mi ha fatto mia cognata è una cosa bellissima che io desideravo veramente da tanto tempo ed è il tegame per fare i muffin però quello rigido io volevo quello rigido perché quello di silicone ce l'ho già però io mi trovo malissimo con i tegami in silicone non so perché ma io proprio non mi ci trovo preferisco questi quindi insomma questo è stato un regalo super gradito tra l'altro è bellissimo perché la dimensione piccolina che per me che ho la casa piccola è veramente l'ideale poi ha vabbè dietro ve lo faccio vedere anche dietro ha ovviamente i sei spazi per fare i muffin e i pirottini di carta già inclusi che è una cosa comunque molto carina perché di solito i pirottini di carta vanno presi a parte quindi insomma invece in questo caso è già una confezione con i suoi pirottini ed è una cosa che veramente ho gradito tantissimo questo è stato un regalo super gradito perché davvero era una cosa della quale avevo bisogno volevo provare a fare i muffin perché io comunque avevo provato con quello in silicone ma comunque mi ero trovata male quindi volevo provare a fare i muffin quelli ripieni con la marmellata quindi utilizzare anche quello strumento che non so se avete visto nel video che ho fatto sui miei accessori per la cucina c'è questo strumento per riempire i muffin con la crema con la marmellata insomma volevo provare a fare questa cosa fare i muffin e riempirli quindi veramente super super gradito poi vi faccio vedere un regalo che mi ha fatto un'amica di mia mamma che è un'amica anche mia comunque perché da tanto tempo che è amica di mia mamma ci frequentiamo qualche volta insomma io la conosco comunque è venuta spesso a trovare mia mamma a casa spesso la incontro per strada perché comunque abita nel nostro quartiere quindi mi capita anche di fermarmi magari a chiacchierare con lei quindi alla fine è un'amica di famiglia quindi insomma io la considero anche amica mia e mi ha fatto questo regalo mi ha regalato questa crema corpo nutriente vellutante questa qua ed è veramente buonissima io l'ho già provata è molto molto vellutante effettivamente e ha un profumo veramente meraviglioso cioè ha un ottimo un ottimo profumo è veramente fantastica è da 150 ml quindi insomma ce n'è di crema quindi la potrò utilizzare per tantissimo tempo perché poi la crema comunque ne basta un pochino non è che dobbiamo metterci quintali di crema quindi sicuramente avrà una durata molto lunga e mi ha fatto veramente molto piacere perché la crema corpo è una cosa che io avevo quasi finito quindi mi serviva anche e poi ha comunque un buonissimo profumo quindi insomma mi fa molto piacere come regalo aver ricevuto questa crema poi vi faccio vedere un regalo che mi hanno fatto i miei genitori questa volta una sorpresa quindi non è una cosa che ho scelto io e hanno preso l'imitazione del profumo J'adore di una farmacia che c'è nella nostra città e che fa questa imitazione di profumi però non sono le classiche imitazioni di profumi diciamo da mercato da mercatino da cinesi assolutamente no perché lo fanno loro intanto nella farmacia ma hanno un'imitazione ottima intanto perché comunque il profumo quando si spruzza è identico all'originale quindi quello che noi sentiamo è proprio identico all'originale non si sente assolutamente che è un'imitazione e hanno una durata veramente lunga perché non evapora subito assolutamente no ma rimane sulla pelle per tante ore io l'ho messo il giorno di Natale al mattino e alla sera lo avevo ancora quindi comunque è veramente ottimo quindi mi hanno preso questo profumo che tra l'altro ha una bellissima confezione perché ha questo tappo quadrato che è veramente bellissimo poi il profumo è rosa come colore ed è il J'adore questo l'imitazione del J'adore ed è veramente molto molto bello ed è stato un regalo gradito perché io il profumo J'adore lo avevo finito lo avevo finito non lo avevo più ricomprato perché comunque è molto caro quindi insomma avevo preso delle imitazioni ma dai cinesi quindi potete capire che grandi imitazioni potevano essere diciamo che ci assomigliava abbastanza però insomma non era proprio questa questa imitazione super mi accontentavo ma non era la stessa cosa invece questo devo dire che mi dà soddisfazione perché è proprio uguale rimanendo in tema invece in questo caso originale J'adore mi ha regalato la zia del mio compagno l'olio per il corpo l'olio per i massaggi insomma è un olio comunque per il corpo J'adore in questo caso è originale è una cosa fantastica lei me l'aveva fatto provare mi aveva fatto provare il suo perché lei ce l'aveva e mi era piaciuto moltissimo quindi insomma me lo ha regalato poi per Natale devo dire che questo è un bellissimo regalo perché a me l'olio per il corpo piace tantissimo è una cosa che mi rilassa da morire dopo la doccia mettermi un pochino d'olio per il corpo e questo che ha la profumazione J'adore è veramente sublime perché insomma è il mio profumo preferito è quello che io adoro tanto per riprendere il nome in assoluto e questo olio per il corpo veramente è fantastico in questo caso è veramente un regalo super 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 apprezzato quindi insomma mi è piaciuto tantissimo ed è bellissimo poi sempre la zia del mio compagno mi ha regalato questa candela che io ho lasciato ancora nella confezione perché è veramente molto carina la confezione però adesso la apro insieme a voi così ve la faccio vedere bene ed è una candela a forma di canolo siciliano ed è veramente una cosa originale io non avevo mai visto una candela così e quello che è bellissimo che ha una profumazione alla vaniglia che è una cosa spettacolare cioè veramente viene voglia di mangiarsela questa candela ve la faccio vedere adesso aperta quindi la apro con voi eccola qua questa è la candela come vedete sembra proprio un canolo siciliano infatti io quando l'ho aperta subito non capivo cioè non avevo capito subito che era una candela sembrava proprio un canolo vero qui ovviamente c'è insomma qua c'è la come si chiama questa cosa per la candela non lo so mai comunque per poterla accendere ed è veramente una cosa fantastica a me dispiace che non posso farvi sentire il profumo perché ha un profumo di vaniglia che è una cosa spettacolare e questa è veramente bellissima dispiace accenderla una candela così perché è davvero bella 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 quindi insomma sono super soddisfatta anche di questo mi è piaciuta tantissimo poi mia suocera mi ha regalato questa pallina per l'albero di natale che viene direttamente dai mercatini di natale austriaci è andata in austria ha fatto questo giro per i mercatini di natale e mi ha portato questa pallina per l'albero di natale è ancora qua nella confezione perché era talmente carina la confezione con la pallina dentro che ho voluto aspettare ad aprirla perché comunque insomma fa molto natale proprio così bella confezionata però adesso dopo questo video poi la andrò ad appendere all'albero di natale perché insomma comunque se non si usa adesso non si mette sull'albero di natale poi perde insomma il senso però è veramente bellissima qui non so se voi riuscite a vederla bene c'è proprio tutto il paesaggio sopra la pallina disegnato il paesaggio austriaco è veramente qualcosa di spettacolare quindi bellissimo anche questo regalo poi sempre mia suocera mi ha regalato questo copripiumino sui toni del rosa dell'arancio insomma non so se riuscite a vedere bene i colori rosa arancio insomma molto bello e questa è l'immagine diciamo completa del piumino come rimane poi quando sarà messo sul letto questo è un regalo utilissimo perché a me serviva il copripiumino forse l'avevo anche detto una volta così a tavola con loro e mi fa piacere che abbiano registrato la notizia e me l'abbiano regalato perché è veramente una cosa bellissima ovviamente ho detto mia suocera ma anche mio suocero quindi è un regalo che mi hanno fatto i miei suoceri ed è veramente una cosa fantastica 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 quindi super apprezzato anche questo poi di nuovo la zia del mio compagno mi ha portato ha portato sia a me che al mio compagno vabbè però ve lo faccio vedere io questi souvenir che vengono direttamente dai mercatini di Natale perché anche lei è andata a vedere i mercatini di Natale questa è una calamita per il frigo con appunto la casa di Mozart e il violino davanti quindi questa bellissima come calamita per il frigo e questa con Mozart che insomma in piedi che suona il violino veramente bellissima anche questa fantastica e a me piacciono tantissimo le calamite per il frigo quindi adesso mentre io vi faccio questo video mi viene in mente che probabilmente vi farò poi un video per farvi vedere tutte le mie calamite per il frigo perché ne ho talmente tante che insomma posso farci un video questo è un segnalibro è un segnalibro sempre a tema ovviamente Mozart perché insomma c'è lo spartito come segnalibro è molto molto carino e questo invece è di Klimt un altro segnalibro molto bello che mi ha portato che ha portato sia a me che il mio compagno da appunto da queste zone dai mercatini di Natale e quindi insomma anche questo è stato un regalo apprezzato tantissimo poi vi faccio vedere una cosa che mi ha fatto mia mamma mia mamma mi ha fatto con la terracotta questo ciondolo con la tecnica del decoupage quindi lei ha fatto la terracotta e poi ha fatto con la tecnica del decoupage questo tipo di decorazione questo è un ciondolo è un ciondolo abbastanza grosso ma a me comunque piacciono i ciondoli molto grossi e è fatto da lei quindi è super apprezzato perché il fatto che lei abbia dedicato del tempo per farmi questo ciondolo già è una cosa che mi ha fatto molto piacere ed è anche molto bello perché ha dei colori, dei fiori sopra con dei colori molto molto belli, luminosi insomma è molto primaverile secondo me come ciondolo comunque mi piace veramente tantissimo e non vedo l'ora di indossarlo quindi dovrò prendere poi un cordoncino nero da attaccare per poterlo indossare e mi piace veramente tantissimo poi rimanendo in tema di creta vi faccio vedere anche un altro ciondolo che ha fatto sempre mia mamma che è questo però questo è particolare questo non è un ciondolo qualsiasi questo è un ciondolo che è stato fatto con la creta che era di mio nonno perché mio nonno quando era vivo lavorava la creta ed era anche molto bravo faceva dei lavori veramente bellissimi chissà magari un giorno farò un video e vi farò vedere i suoi lavori perché davvero era bravissimo e nel circolo in cui lui andava a fare questi lavori di creta era rimasta della creta che lui aveva utilizzato era la sua creta quindi era rimasta in questo circolo e mentre mettevano a posto delle cose insomma questa creta è stata ritrovata e mia mamma ha pensato di farmi con la creta di mio nonno questo ciondolo quindi questo ciondolo ha un valore affettivo enorme perché è stato fatto con la creta che era di mio nonno quindi è veramente una cosa che io ho apprezzato tantissimo e comunque anche il ciondolo mi piace tantissimo perché ha questi toni sull'azzurro, sul nero e sul dorato può essere portato così per lungo assomiglia un po' a un pesce come forma però mi piace tantissimo e comunque appunto come vi dicevo ha questo grande valore affettivo quindi questo è stato un regalo davvero davvero tanto tanto apprezzato per il valore affettivo che ha quindi insomma la creta di mio nonno quindi è veramente una cosa a cui tengo tanto poi vi faccio vedere un regalo che mi ha fatto mia zia mia zia la sorella di mio papà perché poi ne ho anche un'altra zia vi farò dopo vedere cosa mi ha regalato allora mia zia la sorella di mio papà mi ha regalato questo bellissimo poncio che è veramente bello ha questi toni sul bordeaux, sul nero e sul bianco ed è particolare perché è un poncio a collo alto e a me piace tantissimo l'idea del poncio a collo alto perché io sono tanto freddolosa patisco tantissimo il freddo e quindi un bel poncio a collo alto da tenermi nelle giornate più fredde è una cosa che mi piace tantissimo l'ho indossato il giorno di Natale mi sono trovata benissimo è bellissimo, è stupendo ed è molto morbido è molto caldo quindi davvero bellissimo mi è piaciuto tantissimo ah non vi ho fatto vedere scusate che in fondo ha le frange è fatto così quindi ha anche le sue frange è veramente bello poi sempre mia zia la sorella di mio papà mi ha regalato anche questi guanti questi guanti rossi con la pelliccia bianca e nera sul polso e sono di una morbidezza che voi veramente non potete immaginare quanto siano morbidi ve li faccio vedere indossati sono bellissimi sono dei guanti morbidissimi e veramente soffici da portare hanno questa pelliccia che è veramente una cosa morbida all'inverosimile per chi è contrario alle pellicce vi dico che comunque si tratta di pelliccia ecologica quindi insomma prima che arrivino i commenti dedicati alle pellicce eccetera è pelliccia ecologica quindi lo specifico è veramente bello questi guanti sono veramente belli perché sono anche originali perché sono rossi io di solito i guanti li vedevo scuri neri grigi blu marroni però rossi io non li avevo mai visti quindi veramente una cosa bellissima anche il fatto proprio che abbiano questa colorazione un po' originale sono fantastici li ho indossati subito penso che li indosserò finché non arriverà la primavera perché mi tengono le mani veramente caldissime e sono super super apprezzati vi faccio vedere adesso quello che mi ha regalato mia cugina mia cugina mi ha regalato una gift card di Kiko che si presentava in questa scatola a forma di albero di Natale che è veramente meravigliosa cioè ditemi voi se non è meravigliosa questa scatola è veramente bellissima e all'interno c'era la gift card di Kiko che è quella rossa natalizia in edizione limitata e veramente già la tessera è una cosa bellissima io sono andata subito già ieri pomeriggio a scegliermi i regali e ho comprato un sacco di cose quello che mi è piaciuto tantissimo è che Kiko mi ha dato anche la confezione regalo quindi insomma mi hanno fatto proprio il pacchettino mi hanno dato questo sacchettino qua quello natalizio ed è stata una cosa che ho apprezzato tantissimo perché insomma mi è piaciuta l'idea poi del regalo e sono riuscita a prendere veramente un sacco di cose perché mia cugina è stata generosa perché nella gift card comunque c'era una buona cifra quindi insomma è stata davvero generosa e io ho potuto prendere un sacco di cose vi faccio vedere i prodotti per le labbra che ho preso allora questa matita che è una matita lucida labbra di questo colore vi do i riferimenti questa è la numero 03 quindi la matita lip gloss pencil 03 di questo colore non so se riuscite a vederlo da qua comunque è quello che io sto indossando adesso sulle labbra è una colorazione molto chiara però molto molto glitterata e molto luminosa quindi insomma mi piaceva tantissimo e mi sono scelta questa ve la faccio vedere si presenta in questo modo ha questa punta così fantastica perché potete comunque poi andare a definire bene le labbra ed è veramente molto molto bella quindi insomma non so cosa riuscite a vedere dalla luce perché io so di non avere una luce adatta per il makeup però è veramente insomma molto molto olografica poi sulle labbra molto luminosa molto insomma lucida bene le labbra insomma mi piace mi dà molta soddisfazione non l'avevo mai provata quella lì e devo dire che mi è piaciuta subito poi ho preso questa matita invece per le labbra color bordeaux che è questa questa qua è un bordeaux l'ho presa perché si abbina bene al mio rossetto della NYX quello matte color bordeaux questa è la numero 516 ed è una matita che comunque volevo avere proprio per questo tipo di rossetto che comincio ad utilizzare molto spesso e quindi mi faceva piacere avere la matita dello stesso colore anche se mi rendo conto che sarei dovuta andare a prendere proprio la sua matita quella NYX eccetera però insomma il colore è identico quindi insomma mi piaceva anche questa qua della Kiko e ho preso questa poi ho preso un'altra matita per le labbra con un colore decisamente più neutro perché è questo che va bene da utilizzare con i miei rossetti nude e va benissimo appunto per questo scopo ed è la numero 533 sempre di Kiko e anche questa mi serviva poi ho preso due smalti questo che è il numero 016 ed è un colore praticamente sul violaceo insomma sul viola color vino insomma non so come definirlo comunque il numero 016 ed è veramente bellissimo sugli smalti poi vi farò un video a parte per farvi vedere tutti i miei smalti quindi poi questi ve li farò vedere proprio nel dettaglio e poi ho preso lo 030 che è un blu un blu molto acceso molto insomma molto blu mi viene da dire e mi piaceva tantissimo anche questa colorazione quindi mi sono presa anche questi due smalti e poi il pezzo forte che è veramente quello che mi ha dato un sacco di soddisfazioni perché l'ho già usata ed è quella che indosso adesso sugli occhi è la palette che ha all'interno 4 ombretti e un fard è veramente bellissima perché è quella sui toni del verde io desideravo una palette sui toni del verde ed eccola qua è questa questo quello che vedete più grosso è il fard e poi ci sono i 4 ombretti sono bellissimi veramente perché sono tutti sulle tonalità del verde si parte dal più chiaro fino ad arrivare al più scuro i primi due sono glitterati quindi danno questo effetto di luminosità e gli altri due sono invece ombretti matte e rimangono un pochino meno luminosi ma comunque molto molto belli è veramente una bellissima palette questa qui quando ho visto che c'era questa palette sui toni del verde veramente mi sono esaltata perché ho detto la palette con i toni del verde fantastica perché a me una palette tutta sui toni del verde mancava e sono i colori comunque che uso di più che mi piacciono di più quindi insomma quando l'ho vista ero super felice e questo è stato il regalo di mia cugina super apprezzato poi vi faccio vedere il regalo che mi ha fatto l'altra mia zia invece che è questo bellissimo perché mi piace da morire questo portacchiavi qua sfucsia tutto peloso morbidoso all'inverosimile che ha all'interno la pallina antistress è bellissimo cioè a me questo portacchiavi mi è piaciuto da morire perché è morbidoso morbidoso al massimo e è stato veramente apprezzato perché intanto è un portacchiavi quindi insomma è utile perché un portacchiavi serve sempre e poi ha appunto questa pallina antistress così posso manipolarmelo finché voglio ed è veramente morbido io mi dispiace che non posso farvelo sentire qua dal video ma è veramente morbido 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 è bellissimo quindi insomma mi è piaciuto tantissimo questo portacchiavi e insomma lo sto manipolando praticamente da quando me l'ha regalato perché è una cosa fantastica quindi anche questo mi è piaciuto tantissimo inoltre il colore fucsia è uno dei colori che mi piacciono di più quindi insomma anche il colore è stato assolutamente azzeccato poi ci sono state delle persone gentilissime che mi hanno regalato una bustina con dei soldi dentro quindi devo ringraziare per questo mia nonna che mi ha regalato i soldi i miei suoceri che oltre ai regali che avete già visto mi hanno regalato i soldi e anche la zia del mio compagno che mi ha fatto tanti regali di questo genere ma mi ha regalato anche i soldi quindi insomma grazie davvero perché è stato un regalo quello che è sempre gradito perché comunque insomma i soldi servono sempre almeno a me servono sempre quindi comunque è gradito poi come ultimo regalo vi faccio vedere quello che ha fatto una collega del mio compagno al mio compagno però ve lo faccio vedere io perché l'ha regalato a lui perché ovviamente è una sua collega quindi ha fatto un regalo a lui però è una cosa che va bene poi anche per me quindi la possiamo utilizzare insieme e quindi insomma ve lo faccio vedere a parte che mi è piaciuto da morire e poi insomma ve lo faccio vedere perché comunque va bene anche per me intanto la scatola è fantastica perché è una scatola di Natale fatta in questo modo ed è veramente una scatola bellissima che sicuramente utilizzerò perché il mio compagno questo tipo di scatole non le utilizza ma io sì quindi già questo mi piace tantissimo e poi dentro c'erano due tazze per fare la cioccolata e hanno già il cucchiaio di legno dentro quindi veramente carino originale e questa è la tazza per fare la cioccolata calda la cioccolata in tazza ce ne sono due una ha questo colore un pochino più sul beige diciamo così e l'altro ha un colore un pochino più sull'azzurro spero che riusciate a vederlo dalla luce ci sono queste due tazze con già i cucchiaini dentro e poi la cosa molto carina è che all'interno ci sono due barattolini di vetro fatti così con il tappo di legno quindi guardate che bello con le preparazioni per fare il cioccolato uno è cioccolato classico e l'altro invece è cioccolato tipo kinder avete presente il cioccolato kinder ferrero proprio le classiche barrette di cioccolato ecco questa è la cioccolata tipo kinder in tazza ed è fatta così questa è quella classica e questa è quella kinder è veramente fantastico poi lei ha fatto anche le etichette l'ha fatta lei a mano ha scritto le istruzioni dietro quindi ha fatto questo tipo di etichette quindi veramente un bellissimo regalo che entrambi abbiamo apprezzato tantissimo e siccome in questi giorni comunque nella nostra città fa freddo piove c'è il tempo grigio quindi magari ci sarà qualche giornata che passeremo a casa a vedere un film perché non farsi una bella cioccolata calda utilizzando appunto questo regalo quindi è stato veramente un regalo super gradito e apprezzato anche questo questi erano tutti i miei regali di Natale tutti veramente graditi sono felicissima di tutti i regali che ho ricevuto vi invito a scrivermi nei commenti cosa avete ricevuto voi per Natale se avete fatto un video fatemelo sapere che lo vado a vedere molto volentieri mettete un like se vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto io vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacio enorme di iscrivervi al canale